ciao come live? penso no caos, cazzo andiamo 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 prima libri vengo prima a fare una librette di fuori canda a caos no, no la la conmisbilo la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. e segni il titolo di questa live è vero ehi uno da pazze uno da pazze sbri ragazzi sto col con il live bella riempio ma 18 persone ok 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 ora c'è un po' il nuovo Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Sto con Grazie a tutti 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 Grazie a tutti